Cominciamo il nostro viaggio con una delle creature più iconiche della mitologia orientale, il drago cinese. Questo essere maestoso non è un simbolo di distruzione, ma piuttosto di potere, forza e buona fortuna. Nelle tradizioni cinesi, i draghi sono visti come protettori dei fiumi e dei lari, portatori di pioggia che fertilizza la terra. I draghi cinesi sono spesso raffigurati con un corpo lungo e serpentiforme, senza ali. Ma con la capacità di volare grazie alla loro forza spirituale. Le sue squame lucenti brillano come gemme sotto la luce del sole. In molte leggende, il drago cinese è una creatura benevola. Si credeva che le famiglie imperiali fossero discendenti diretti dei draghi, portatori di prosperità e ordine cosmico. Nei templi e nelle feste, i draghi sono celebrati come figure di rispetto. Passiamo ora, è una creatura del tutto diversa ma altrettanto affascinante. L'unicorno. Nelle leggende europee, l'unicorno è simbolo di purezza e innocenza. Il suo corno, scintillante come l'argento, ha il potere di purificare l'acqua e curare malattie. Gli unicorni, con il loro manto bianco come la neve, sono creature elusive, difficili da vedere. Si dice che solo le persone dal cuore puro possano avvistarli e che l'unicorno appaia solo quando un grande bisogno di giustizia o protezione lo richiama. Nel Medioevo, l'unicorno era considerato un simbolo sacro e veniva spesso rappresentato nei mosaici delle cattedrali o nei racconti cavallereschi come animale nobile e invincibile. E ora, tuffiamoci nelle acque profonde per incontrare una delle creature più seducenti e pericolose della mitologia. Le sirene. Metà donna e metà pesce. Le sirene sono conosciute per le loro voci incantatrici, capaci di sedurre i marinai e condurli alla rovina. Spesso, le sirene vengono descritte come esseri di una bellezza ineguagliabile. Il loro canto melodioso attraversa i mari come un richiamo irresistibile, facendo perdere il controllo ai marinai, che finiscono per naufragare tra gli scogli. Tuttavia, in alcune culture, le sirene sono viste anche come portatrici di saggezza e conoscenza. Proteggono segreti del mare e aiutano coloro che sono degni di ascoltare le loro storie. Questa doppia natura le rende creature complesse e ambivalenti. Dal mare, torniamo sulla terraferma, dove regna un'altra creatura magnifica, il griffone. Metà aquila e metà leone, il griffone simboleggia forza, nobiltà e protezione. Si dice che sorvegli tesori nascosti, difendendoli con il suo volo imponente. Il griffone è noto per la sua lealtà e coraggio, maestoso nelle leggende e nei racconti cavallereschi. Con le sue enormi ali spiegate e il ruggito feroce del leone, è una figura che incute timore e rispetto. In molte storie, i griffoni sono i guardiani di segreti antichi e di terre proibite, destinati a proteggere ciò che gli uomini non possono comprendere o controllare. La sua sagoma fiera svetta spesso nei cieli dorati delle leggende antiche. Ora incontriamo un'altra creatura straordinaria, la Fenice, simbolo di rinascita e rinnovamento. Questa leggendaria creatura, che risorge dalle proprie ceneri, rappresenta la ciclicità della vita e la speranza dopo la distruzione. Con il suo piumaggio fiammeggiante, la Fenice è una visione spettacolare. La sua immagine appare in molte culture, dall'antico Egitto fino alla mitologia greca. Brucia in un incendio autogenerato e rinasce dalle sue stesse ceneri, simbolo di immortalità. In molte leggende, la Fenice è associata al sole, un ciclo eterno di nascita e morte. La sua rinascita è un potente messaggio di resilienza e rinnovamento, di come la vita può rinascere dopo la distruzione. Queste creature mitologiche non sono solo fantasie, rappresentano valori profondi come la protezione, la rinascita, la purezza e la tentazione. Ogni cultura ha le sue creature leggendarie e attraverso di esse possiamo esplorare le paure e le speranze degli esseri umani.